Devo dire che il problema della pelle, mi pare che il dottore ha detto che non mi riguarda, in un certo senso riguarda tutti. Cioè il problema della pelle, il rapporto con la propria pelle, si dice la pelle anche in senso traslato, insomma. Perché salvare la pelle è qualcosa che ci preme, preme a tutti. Da pittore posso dire che non mi sono preparato, però pensando alla pittura e alla pelle penso che effettivamente esiste una pelle della pittura. Quello che si può chiamare anche sommariamente superficie. C'è una famosa definizione della pittura che dice la pittura, il quadro è una superficie piana, coperta, adesso non ricordo esattamente le parole. La superficie però è qualcosa che diminuisce la ricchezza di quello che io posso chiamare pelle della pittura. E che cosa fa la pelle della pittura? Copre o manifesta talvolta la carne della pittura. Tutto questo a noi sembra molto remoto e dobbiamo pensare a secoli passati, ai secoli della grande pittura del passato, per vedere la naturalezza con cui la pittura esibiva la sua pelle e anche la sua carne. Adesso diciamo che la pittura nell'epoca, nella nostra modernità, tende a essere pellicolare. C'è qualcosa che va al di là della pelle, al di là della fisicità. C'è qualcosa che ci riguarda in un modo molto indiretto. Adesso sappiamo di vivere tutti in un universo, diciamo così, virtuale, cioè indiretto. E tutto sommato, purtroppo, anche la pittura pende a quello. Invece a me sembra che la pittura, il pittore, dovrebbe recuperare la pelle della pittura e anche la sua propria pelle. Perché c'è uno stretto rapporto tra la fisicità della pittura, di quello che la pittura è nella sua essenza più profonda e più fisica, più carnale, diciamo. E la carnalità, la fisicità del pittore. Ecco, più di tanto io non... E vi ringrazio di avermi ascoltato. E vi ringrazio di avermi ascoltato.